Buongiorno amici, buongiorno amiche, eccoci alla terza lezione. Oggi conoscerete uno dei punti più odiati dai miei studenti, ma anche il più amato dai puristi dell'alta sartoria, il sopramano. Iniziamo! A che cosa serve il sopramano? Il sopramano serve a rifinire i tagli delle stoffe. Questo è il bordo fatto con la taglia e cuci che non tutti hanno. Un'altra alternativa è il punto zigzag, ma è molto difficile per i principianti farne uno così perfetto da non fare difetto. Invece noi faremo il nostro sopramano e dovremo innanzitutto tagliare gli sfilacci che sono sul nostro taglio della stoffa. In questo modo, ok? Allora, come si procede? Si comincia dalla parte opposta rispetto alla propria mano, quindi se io utilizzo questa mano inizierò da questo lato, se io utilizzo questa mano inizierò da quest'altro. Procediamo. Bisogna mantenere una distanza di ingresso dell'ago, quindi del punto, di circa mezzo centimetro, ma anche meno, poi a seconda anche del tessuto. E procederò facendo tanti piccoli punti obliqui, possibilmente equidistanti. Spingo sempre col ditale, riprendo con le dita, lago e procedo. Così fino alla fine. Qual è la particolarità? Che non lavoreremo sul tavolo. Questo è uno dei lavori che si esegue sul ginocchio. Adesso vi farò vedere la posizione corretta del nostro lavoro. Bene, per quanto riguarda la posizione, allora è questa. Bisogna stare con la schiena ben poggiata sulla schiena e la sedia, avere il lavoro sul ginocchio, gambe accavallate e mantenere anche il polso e la mano poggiati, cioè rilassati. E lavorare, come è lo schema che vi ho fatto vedere poco fa, in maniera più dettagliata. Ok? Se per caso avete ancora la tendenza a portare la schiena in avanti, sollevate le ginocchia mettendo qualcosa che sollevi entrambe le gambe da sotto, tipo un gradino, una scaletta, un poggiapiedi, qualcosa. Ok? E cercate di mantenere sempre la posizione rilassata, soprattutto il braccio, altrimenti potreste avere problemi a lungo andare. D'accordo? Provate. Bene, siamo arrivati alla fine della terza lezione. Iscrivetevi perché la prossima settimana, in un giorno a sorpresa che non vi dico, uscirà una lezione in più. La prossima settimana avrete ben due lezioni, una sempre di sabato, la prossima in un giorno che se attiverete la campanella e sarete iscritti vi verrà notificata. Non ve la perdete. L'argomento? L'argomento? Il sottopunto. Alla prossima!